ciao benvenuti un nuovo video allora oggi vi vado a parlare di tutta la linea della il verce la linea lifting vegetal che è una linea adesso ve la mozza tutta che va a fare un effetto tensore sui tratti rilassati del viso e io ho molto bisogno di questo effetto tensore ammettiamolo allora la linea i prodotti che ho provato io sono il trattamento ed è giorno il trattamento notte il siero e il contorno occhi anti borse che già da questo dico anti borse mio da provare assolutamente ma iniziamo con a parlare di questi prodotti così vediamo tutta la linea completa e iniziamo dal trattamento giorno dice essere un trattamento giorno effetto tensore ma in tutti i prodotti avete la clip con la texture prezzo 50 ml 29 95 ma sapete che in negozio oppure con i cataloghi sono sempre scontabili allora dunque questo prodotto è sì è una crema leggera adatta per il viso ed il collo che dice di andare a liftare e ripolpare i tratti rilassati del viso allora è un trattamento abbastanza leggero però sapete che io non amo le creme sul viso perché soprattutto perché ho la pelle mista e quindi tende a lucidarmela in poco tempo se dopo applico il make up ed effettivamente se applicavo questa crema la lasciava asciugare ne mettevo anche poca e poi dopo andava applicare fondocinta il famoso fondocinta fondotinta e cipria la zona t mi si lucidava davvero velocemente applicato alla sera sì 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 nella stagione autunno o primavera perché comunque sia non va a idratarla molto e quindi per la sera vorrei un prodotto più strong questo non lo trovo adatto per il giorno ma non è dato neanche per la notte né carne né pesce quindi sì ok ma niente di che sinceramente ma ora andiamo al trattamento fortificante notte che è l'altro 50 ml per 32 e 95 vi ricordo sempre che è scontabile scusate questo qui ok e questo invece un'altra storia perché questo è mi è piaciuto molto di più dunque è una crema più corposa più ricca effettivamente adatta alla sera da poco prodotto vedete la clip poco prodotto si stende bene anche sul collo mi raccomando il collo è molto importante e comunque si stende bene assorbe velocemente e ha una leggera profumazione questo devo dirvela una leggera profumazione erborea fresca mi piace però si sente davvero pochissimo e non presto sulla pelle hanno usato il vasetto la sentite ma se no non si sente la mia pelle anche se mista durante la notte la tollera benissimo non mi sono mai svegliata con la pelle unta oppure appiccicata lucida mai bello idratante mi piace mi è piaciuto tanto funziona bene e bello idratante a se no anche dopo le maschere purificanti ma di notte questo mi piace magari non in estate perché molto ricco però per il resto si piaciuto e adesso vi parlo invece di questo siero siero lift super concentrato questo qui fluido rimodellante luminosità dice di essere allora 50 ml 29 euro e 95 è questo qui e di questo ne dobbiamo parlare allora intanto vedete dalla clip che è un fluido effettivamente è un siero ed è molto leggero basta poco prodotto si stende benissimo assorbe immediatamente è il prodotto che mi è piaciuto di più e per il giorno quindi per il giorno mi sono trovata davvero bene perché si pelle mista quindi lo applico bene si assorbe subito e dopo posso andarmi a truccare non mi crea problemi non mi lucida la zona t non mi sposta il makeup quindi su questo si il prodotto ha un applicatore fatto così a beccuccio il profumo è fresco molto fresco ma non persiste sulla pelle lo senti durante l'applicazione e basta allora quello di cui vi voglio parlare è le promesse cosa sono le promesse allora aspettate che me le sono segnate per non andare sul sito a rileggere dunque dona luminosità al viso ed è grazie alla texture iridescente il delle clip che avete visto di questo prodotto vedete anche voi che la texture iridescente non c'è assolutamente è un prodotto classico quindi donna luminosità a cosa buono siero ma iridescente cosa no non lo è iridescente il prodotto iridescente è tutt'altra cosa ed è poi altra cosa che dice immediatamente le rughe appaiono attenuate cosa se andiamo a truccarci sì che appaiono attenuate ma i miracoli non li fa nessuno questo oltretutto è un prodotto cosmetico non ed è medico cosmetico un cosmetico non può fare miracoli aiuta sicuramente tenendo idratata la pelle a prevenire i segni dell'invecchiamento con il lungo periodo applicandolo ed è costantemente sicuramente migliora l'effetto della pelle ma che immediatamente immediatamente le rughe appaiono ed è attenuate no non esiste non può esistere e infatti non lo fa dunque devo dare due voti distinto a questo prodotto perché il prodotto come è la texture la formulazione e tutto mi piace tanto ma per le promesse che ha ma proprio no attenzione anche sempre a leggere va bene che siamo abituati a queste descrizioni super i miracoli non li può fare nessuno lo sappiamo si può prevenire si può aiutare si può combattere ma i miracoli no infatti si vede anche come sono io ma veniamo all'ultimo prodotto trattamento lifting anti borse con collagene vegetale allora di questo ho il full size perché ero curiosa di vederlo 14 ml 27,95 euro l'applicatore è in silicone ma tanto adesso vedete anche la clip della texture il prodotto è questo qui e anche per questo immagino che dobbiamo parlarne trattamento anti borse occhiaie da qualche parte ci deve essere scritto eccolo questo gel dalla texture fresca idrata riduce le borse sotto gli occhi e ravviva all'istante lo sguardo applicare mattina e sera sul contorno occhi allora si presenta come un gel ed è abbastanza fresco si applica con l'applicatore in silicone sul contorno occhi avete visto comunque la clip della texture si picchietta bene ed si massaggia leggermente delicatamente magari utilizzando anche un roll con un roll ecco di quelli o di un altro applicatore oppure esistono i commercio anche quelli senza andare a comprare il rullo di giada o quelle cose un roll classico che va a massaggiare ha un effetto sicuramente fresco che va a decongestionare e poi il massaggio è quello che aiuta tanto perché durante l'applicazione il massaggio va a riattivare il microcircolo e le borse dovute alla cattiva circolazione oppure a ristagni di liquidi vengono inattenuate quasi immediatamente quindi attenuate ma le borse e gli occhiaie congenite oppure quelle permanenti no no sicuramente è un prodotto che a base di collagene vegetale aiuta aiuta tanto fa bene ed aiuta a mantenere bello idratato e bello elastico il contorno occhi quindi previene la formazione cosa è successo? previene la formazione dei segni del tempo si i miracoli non li fa e il fatto che dica di aspettate e ravviva all'istante lo sguardo beh si perché è dovuto al massaggio se noi applicassimo il prodotto e lo lasciamo lì non ravviva niente è proprio il fatto del massaggio che va ad aiutare sono polemica oggi molto probabilmente ma il fatto è che è una texture bella che assorbe velocemente che si massaggia bene non ha profumazione non ha profumazione esatto assorbe bene si comporta benissimo anche sotto al make up e il fatto che vadano a con questi claim che vanno a buttarlo tanto fa miracoli mi fa cadere il prodotto quando invece il prodotto in sé è buono quindi sono molto polemica sì ma so che i prodotti cosmetici non fanno miracoli ma il fatto che abbia collagene vegetale aiuta aiuta tanto non solo idrata e mantiene idratato la zona sottile dei contornocchi ma se la smetto di come si dice quando muovi le mani ecco non solo lo va a tenere idratato ma il collagene vegetale rende la zona molto più elastica e quindi aiuta sicuramente ed è un buon prodotto comunque io con questo ho finito ora voglio sapere da voi cosa ne pensate intanto dei claim che si sa buttano fuori però ci tengo e se avete provato questi prodotti questa linea qualcuno di questi prodotti come vi siete trovate se vi sono piaciuti se vi incuriosiscono ad esempio io ho il contornocchi che è questo e il siero la texture la composizione mi piacciono mi piacciono davvero sono le promesse che sono esagerate ed è ora smetto di parlarle perché è meglio ed è lascio a voi qui sotto dirmi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao